Passo io? Passi tu? No, passate voi. Il rischio incidenti rimane alto nell'incrocio di via fiume a Sulmona con la circonvallazione orientale, dove da circa due mesi il semaforo risulta non funzionante. Non una o due settimane, ma molto di più. La protesta di residenti automobilisti era esplosa subito dopo il ferragosto, quando il via vai di auto, con l'arancione lambeggiante, creava più di un problema al traffico veicolare. Il comune ha quindi attivato le procedure necessarie per ordinare le centraline semaforiche ormai da sostituire. La burocrazia certamente ha i suoi tempi, ma la sicurezza stradale non può affatto aspettare. Ogni giorno in alcune fasce orarie si rischia un incidente. È vero che esiste il codice della strada, ma questa situazione perdurante non è il massimo per circolare con tutta tranquillità. Protestano gli automobilisti residenti della zona e gli assidi frequentatori dell'incrocio in questione. Si tratta di uno snodo importante per la viabilità sul Monese, poiché da quel semaforo si passa per accedere nella centralissima piazza Garibaldi per il tramite di Porta Pacentrana e via Dorrucci, come pure ci si può immettere nelle due circonvallazioni orientale e occidentale, raggiungendo Porta Napoli da un lato e via Iapassari dall'altro. Fu sera e fu mattina, quasi tre mesi.